I finanziari del Comando Provinciale dell'Aquila hanno arrestato oggi ai domiciliari il responsabile dell'ufficio tecnico di un comune dell'Aquilano. L'ordinanza rappresenta soltanto l'epilogo di lunghe ed articolate indagini di polizia giudiziaria delegate alla Compagnia dell'Aquila della Guardia di Finanza dalla Procura della Repubblica. Si parla dell'iter di concessione di una variante di lizia a valere su un aggregato strutturale ubicato in un comune dell'Aquilano, interessato ovviamente da lavori di ricostruzione post-sisma. Le investigazioni hanno consentito di accertare che il tecnico comunale infedele, così è stato definito, nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale e di responsabile del procedimento di definizione della pratica oggetto d'indagine, aveva indotto il privato committente a versare in suo favore la somma di 2.000 euro, quale condizione essenziale per definire poi l'iter inerente questa variazione di lizia proposta, rientrante, tra le altre cose, nei piani requisiti di legge. Al soggetto sottoposto a misura cautelare è stato contestato il reato di concussione per ora. Le perquisizioni informatiche locali eseguite poi presso il comune e presso l'abitazione del pubblico funzionario si sono concluse con il sequestro di un computer e di documentazione pertinente necessario a far proseguire le indagini.